computer. Buonasera, buonasera, buonasera. Ci sono un po' di facce nuove, sono felice. Benvenuti, benvenute ad una Zoom del tutto formativa. Prendo la voce, la parola due minuti, poi magari ritorno anche più tardi. Questa Zoom è stata preparata e proposta da Rita perché comunque abbiamo bisogno di farvi capire l'importanza degli strumenti che abbiamo. Abbiamo bisogno di farvi capire qual è la strada giusta da seguire e le azioni giuste da fare. Non siamo qui solo per divertirci, non siamo qui solo per dire che mangiamo Juice Plus, dire quanto stiamo bene con Juice Plus e tante e tante altre cose belle che ci sono nella nostra vita. Questa sera una ragazza mi ha scritto, ah voi con due pillole alla verdura cambiate la vita alla gente. Sì, proprio così, proprio hai capito tutto, c'è che dire. Detto questo, andiamo avanti, però questo potrebbe essere il messaggio che può passare se uno si ferma a vedere una singola diretta, se uno si ferma a vedere un singolo post. Come sapete è importante farci conoscere. Parliamo tanto di felicità, di cambiamento di vita, è importante passare questo messaggio. È importante far capire che è un lavoro serio, è importante far capire che non siamo delle minchie così sprobedute, buttate là, che non sanno che cosa fare, che non sanno che cosa dire. Noi sappiamo che abbiamo una strada da seguire, abbiamo un funnel da seguire, dove una persona arriva da noi e noi usando gli strumenti, i video che vi ho dato, i gruppi, che sono la cosa più importante, facciamo conoscere, facciamo vivere un'esperienza oltre le nostre parole. Questo è importante. Dobbiamo far vivere un'esperienza, dobbiamo far avvicinare le persone a noi e farle innamorare. Quanto noi siamo innamorate di questa attività e di questo prodotto. Ma è una cosa studiata, è una delle poche strategie che ci permette di creare clienti paganti da Facebook e nessuno comprerà sul tuo link. Anzi, se qualcuno comprerà dal tuo link, comunque non non viverà questa esperienza, no? In chat questa sera hanno chiesto che differenza c'è tra il peso forma e il nostro prodotto. Ma ha visto? Io direi la grande differenza ci sono io, ci siamo noi. Quando compri il prodotto in farmacia, sì, poi fa, ma fai sempre a cavolo. Le classiche diete fai da te, prendo il prodotto, mangio di meno, perdo peso, dopo un mese rimetto. Ah, ste cose non funzionano. Ma va? Anche quando andate in obiezione e anticipate le obiezioni e prevedete il futuro che quello è perché ci siamo passate tutte col prodottino magico, la persona rimane anche un po'. Mi sa che c'è ragione. Cerchiamo sempre di ascoltare e di spiazzare, tra virgolette, con educazione, con etica e con professionalità. Gli strumenti più importanti che avete sono i video? Gli strumenti più importanti che avete sono i gruppi? Gli strumenti più importanti che avete sono le vostre upline che hanno esperienza, che sono ci sono passate prima di voi e che quindi vi possono aiutare a parlare con le persone. Ci saranno persone che stanno lì e lì per decidere, che non si decideranno mai. Sarà meglio parlare con due tre persone in più del nostro team che invece che fanno il giro del mondo in ottanta giorni e in ottanta giorni gli dicono sette tipi di cose e vanno in confusione? Anche lì anticipare. Guarda, io ti spiego tutto. Mi piacerebbe farti conoscere la mia app che ha tantissima esperienza. Ho deciso di scegliere lei perché mi piace come si approccia. Mi ha fatto cambiare testa. Mi ha fatto assolutamente cambiare il mio rapporto con il cibo. Sono stata anch'io a girare tante cose, anche se non è vero. Sono stata anch'io a girare tante tante persone perché volevo capire. Alla fine sono stata sono andata solo in confusione. Poi ho deciso di affidarmi ad una persona e lei ha cambiato la mia visione. Ci piace sto discorsetto da intavolare per evitare la poi ci andranno uguali perché ci andranno uguali. Intanto io ho fatto un punto, ho messo un punto che ti rimarrà in testa e anche se ti troverai sulle mie parole ti rimarrò in testa. Quello che ho fatto io all'inizio, zero esperienza, zero competenza, conoscevo nemmeno il prodotto, mi sono fatta vedere nei gruppi. Sono stata sempre molto presente nei gruppi. Alle persone online che cos'è che che colpisce la presenza. Ma se tu non ci stai, che mi colpisce? Che fai un post al giorno, due post al giorno? Che Facebook nemmeno me lo fa vedere magari? Perché tu non mi segui, io non ti seguo ovviamente. Questo è molto importante. Siamo qui per farci vedere. Siamo qui per creare il nostro pubblico. Siamo qui per crearci l'esperienza. E se inizio a usare tutto bene, poi lo potrò insegnare. Altrimenti non lo insegnerò mai. Creerò persone, vai, fai come te pare. Se va bene, va bene. Se va bene, ciao, funziona. Ma la strategia è molto semplice. Magari noi a volte lo diamo troppo per scontato, eh, per carità. Ormai anch'io dopo sette anni lo do tanto per scontato, ma il nostro gruppo che si chiama Obiettivo e altri gruppi di trasformazione sono una cosa più importante. Una persona che sta nei gruppi guarda tutti i giorni le nostre trasformazioni. Quando sono entrata io nel gruppo, ho detto, porca miseria, se queste dimagriscono così, voglio dimagrire pure io. Tutte felici, tutte contente. E quindi abbiamo bisogno di trasformazioni ogni giorno. Siamo un quintale e mezzo di persone. Abbiamo bisogno di commenti. Ma no, brava, bella, buona, salutare. Commenti dove io leggo la storia e, ma soprattutto devo conoscere le storie che stanno là dentro, non solo prima e dopo, ma anche le storie di attività, per dire, mi arriva una parrucchiera, la taggo sotto Pamela. Mi arriva una mamma di quattro, cinque bambini, la posso taggare sotto Liliana Guido. Sotto, ce ne stanno tante di storie. Mi arrivano imprenditrici, ce ne avete tante, c'è chi c'ha un bar, lo potete taggare sotto Rita, ma se non conoscete le storie, poca roba potete taggare. La buttate dentro così, ne dite manco niente, voi pensate che ritorna da voi? Fatemi capire. Perché il lavoro è trovare i contatti, curarli, trovare i contatti, rimanere nella testa di questi contatti e poi veicolarli all'acquisto e all'attività. Questa è una cosa importantissima. Il nostro tesoro sono i contatti, non è Giuse Plus. Giuse Plus sta lì. Giuse Plus è validissimo. Ma il mio lavoro è collaborare con Giuse Plus. Il mio lavoro è avere contatti, veicolare il prodotto, crearmi una rete, crearmi un'impresa nell'impresa. Quindi capire, lavorare professionalmente, seriamente, eticamente. Che poi, ripeto, ci divertiamo? Va più che bene. Ma dobbiamo prenderlo sempre sul serio, come un lavoro. Ok? Quindi stasera Rita ci parlerà di tutti queste cose da usare, della chat, no? Molti mi parlano della chat, non c'è una chat perfetta, non c'è una chat copia e incolla, ragazze. Anche noi usavamo una chat copia e incolla, ma ormai la gente è stanca. Ormai la gente l'ha passato. Quanto pesi, quanto sei alta, quanto vuoi di dimagri? Ah, già pensa, ecco questa molle, venne i bibidoni, ciao. E non ti risponde più. Interazione, conoscenza. Questo è molto importante. Stiamo parlando a delle persone reali. Persone con dei sentimenti, persone con delusioni, persone con esperienza, persone tanto diffidenti. Quindi non vi aspettate mai un sì, anzi aspettate che va qualche insurdo. Stasera sta ragazza e io ho detto, ascolta, quella è la favola dei fagioli magici. Te mangi due fagioli, arrivi di sopra. Io ho detto, cioè io ho risposto proprio così, raga, cioè non ho paura, tu mi vieni a dire con una pillola, fai i sordi, con una pillola, cambi vita, ma che stai a dire? Do l'hai letto? Mi vuoi prendere in giro a me? Hai trovato la persona giusta? Ok? E voi dovete capire quanto valete. Noi siamo disponibili, ma non a disposizione, a prenderci insulti o risatine, anche no. Perché siamo persone serie, che hanno deciso di investire la propria vita e di scegliere di credere in qualcosa di più grande, di più fattibile, di più ehm bello che ci possa dare grandi risultati. Quindi adesso lascio la parola a Rita, ci vediamo dopo. Buonasera Rita. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Sara. Allora, ho chiesto sì io questa Zoom perché sono amministratrice del nostro gruppo Trasformazione e negli ultimi tempi mi sono resa conto che soprattutto le persone nuove, le ragazze nuove, non sanno come muoversi all'interno di questo gruppo e non hanno proprio dato il valore a questo gruppo, a questo strumento, a questi strumenti che noi abbiamo, che sono i gruppi Trasformazione e il gruppo Attività e in più eh in aggiunta da un anno e mezzo abbiamo i i nostri i video di di Sara che ci aiutano tantissimo. È il settantacinque per cento del lavoro che noi dobbiamo fare ragazzi ed è mh diventa tanto più facile parlare del prodotto, parlare del dell'attività e e approcciarsi con le persone. I gruppi sono in primis gli strumenti più importanti eh e spesse volte noi non sappiamo nemmeno di che cosa eh che cosa sono. Il gruppo eh innanzitutto eh vedo che tanti di voi non lo usano nemmeno perché a volte mi arriva il messaggio magari anche dalle mie ragazze ma che dice è il caso di inserirla nel gruppo? Le persone con le quali parlate devono essere inserite tutte nei gruppi tutte ci dovete parlare però ragazze non prendete nomi a caso e le invitate là dentro. Si trovano in questo calderone di persone e non sanno chi le invitate e non sanno di che cosa si tratta e iniziano a chiedere a destra e a manca magari vi perdete anche una cliente perché andranno in confusione come ha detto Sara e non sapendo di che cosa si tratta andranno a chiedere in giro creando un creandosi una curiosità propria. Magari chiedono a una persona sbagliata e vi siete perso una cliente. Con le persone si ci parla e le invitate. Non dovete mai chiedere ti posso invitare in un gruppo. Le invitate. Io ti invito ti faccio vedere una cosa bellissima un gruppo che ha convinto anche me un qualcosa di meraviglioso delle trasformazioni incredibili e dovete accompagnare piano piano questo gruppo con empatizzandolo tanto perché è un qualcosa di meraviglioso. Io quando sono entrato in quel gruppo e venivo da dieci anni di prove, diete, prodotti, fallimenti ed ero proprio alla frutta perché ero arrivato a 124 kg. Quando sono entrato in quel gruppo e ho visto tutte quelle persone che postavano in continuazione perché c'era anche un postare continuo tra i clienti e anche le distributrici e io vedevo queste trasformazioni e dicevo cavolo ma ci sono riuscite loro ma vuoi vedere sono io l'unica scema che non ci riesco? E la cosa più bella è che in quel gruppo ci sono persone reali ragazze. Se io vado a cliccare sul nome di una persona che ha postato mi porta sul suo profilo e vedo che quella persona ci sta abbiamo uno strumento in mano che tante altre prima tante altre attività tante altre aziende prima di noi non hanno mai avuto. I gruppi sono importantissimi. a me sinceramente la cosa che mi ha convinto di più è stata proprio questa andare a cliccare sul nome delle persone e trovarmi su un profilo vero di una persona che magari aveva postato anche sul suo profilo la sua trasformazione e lì mi sono un po' convinta anche a provare questi bibitoni perché io ero una di quelle scettiche. Per cui mi rifaccio tanto alla mia esperienza. Il gruppo è importante quando portare una persona in quel gruppo come diceva Sara dovete imparare a conoscere le storie di quelle persone che stanno là dentro perché quando parlate con con una donna che ha vi dico una cosa banale problema di è in menopausa come me ovvio che io non gli faccio vedere il profilo di il post magari di Sara o il post di Milena o il post di Ramona che sono ragazze che comunque più giovani e non sono in meno pausa ma gli vado a far vedere il mio post gli vado a far vedere quello di Fulvia gli vado a far vedere le persone che possono essere eh di ispirazione per quello che è quella persona che mi ha chiesto per cui la sera ragazze perdetele sti dieci minuti a guardarvi un po' quel gruppo e a conoscere quelle persone che sia il gruppo trasformazioni che sia il gruppo attività perché dobbiamo essere prima noi a conoscere la storia delle persone che stanno là dentro e poi far presentarla alle persone che ci inseriamo per cui il nostro lavoro principale è conoscere il gruppo per bene perché il nostro strumento portarlo al a enfatizzarlo al massimo con le persone alle alle persone alle quali lo andiamo a presentare e coccolarcele perché lì ci può stare anche un bellissimo follow up perché se io conosco Giovanna come dicevo prima che magari ha finito adesso la gravidanza quindi esce da una gravidanza e la vado a taggare sotto il post di Martina però a volte ragazze vedo i vostri tag sotto quei post nome nome basta non ha senso metteteci le due parole vicino guardati ti faccio ascolta guarda il post di questa ragazza vedi che cosa e lei è come te una ragazza che appena uscita dalla gravidanza e ha ripreso subito il programma guarda che risultati ha avuto dopo due settimane posta chiara per esempio chi ha anche lei una persona che ha partorito da poco e io arrivato a quella persona quella Giovanna e gli dico Giovanna guarda ti voglio far vedere una cosa c'è una storia bellissima mi ha colpito veramente e te la vorrei far rivedere e l'andate a portare di nuovo in quel gruppo e fate il follow up poi magari iniziate a riparlarci con questa Giovanna magari dopo parlate del cane o di altre cose però è un modo per ritornare avete uno strumento in mano bellissimo i commenti sono importanti perché ogni volta che voi commentate quel post gira sempre gira anche sui profili delle persone che avete inserito là dentro voi inserite le persone là dentro le buttate e finisce lì non va bene così ho visto post oggi nel nostro gruppo trasformazioni con sei commenti porca miseria ma quante persone siamo là dentro che ci perdete dieci minuti la sera a pranzo la mattina presto la mattina quando state in bagno ma fatelo quando volete che ci perdete dieci minuti è per voi per i contatti avete inserito voi è un lavoro che fate voi ragazze il commento tra parentesi e questo vorrei spendere giusto due paroline cioè wow bella complimenti su cose che proprio non vanno giù oppure quelle gift che io vi taglierei le manine quelle suam swap ma che commenti sono un bel commento vi leggete un trattino della storia di quello che ha scritto bellissimo riprendere in mano la propria vita come te ho provato la stessa emozione questi sono i commenti che dovete fare sotto i post e se ognuno di noi si impegnasse un poco in più a dare valore a cui alle persone che postano sarebbe un valore un valore in più che voi date anche alle persone che inserite perché se sono prima io distributrice che non metto un prima e dopo che non faccio un post che non dico che cosa gisplus mi sta dando che sia trasformazione o che sia gruppo attività ma come pretendo che le mie clienti o le persone del mio team facciano il post con me in quel gruppo noi siamo sempre esempio ricordate come siamo stato esempio alle persone abbiamo convinte a iniziare questo percorso con noi dobbiamo essere continuare ad essere esempio in quel gruppo quella cliente che voi lasciate andare così potrebbe diventare la vostra prossima distributrice magari ci pensate noi donne siamo tutte vanitose eh anche gli uomini devo dire però pietro anche gli uomini è un complimento in più fa sempre piacere se vediamo un post con tanti commenti sotto ma vuoi che non viene lo sfriccichino anche alla cliente vanitosa di farsi il post in obiettivo parlo di obiettivo del nostro gruppo trasformazioni o per per beccarsi tutti quei commenti anche lei ci pensate a queste cose basterebbe che ognuna di voi ogni settimana si prende l'impegno di farsi il suo bel post nel gruppo nel gruppo trasformazioni e una volta al mese lo facesse almeno una volta al mese nel gruppo attività sapete che cosa significa significa che quel gruppo funziona al cento per cento ogni giorno perché se inseriamo cinque sei post nuovi al giorno in quel gruppo e sotto ogni post di quello ci andiamo a a commentare tutti tutte le persone che ci lavoriamo là dentro significa che quel post gira quel quel gruppo cammina sempre il gruppo come dice Sara del del metabolismo il nostro programma fa in modo che con questi cinque pasti al giorno il nostro metabolismo ha sempre un'onda di energia che gli va nello stesso modo i nostri commenti i nostri post nel gruppo fanno in modo che l'algoritmo perché il metabolismo del nostro gruppo si chiama algoritmo vada sempre a muoversi è questo che dovete imparare il nostro lavoro è una serie di azioni che va fatta in in conseguenza quando voi vi fate vedere ok mariana c'è sempre tempo io ho chiesto questa zoom proprio per questo perché vedo che non c'è non c'è non c'è voglia proprio di dimostrare secondo voi inserire persone là dentro è finito il nostro lavoro il fatto di inserire persone in un gruppo dovete vederla come fargli fare una bellissima esperienza perché è da lì che parte tutto è la stessa cosa che io ho un bar mi metto fuori dal bar per invitare persone e gli dico ti faccio provare il miglior caffè della città apro le porte di questo bar spingo dentro la cliente o il cliente chiudo la porta ed è finita lì questa persona si trova al buio magari quindi in un locale chiuso con persone che non se la fidano per niente chi sta alla cassa che sta vicino alla macchinetta del caffè questa persona si gira intorno miglior caffè il più bel bar dove sta si gira se ne va ma se io entro con lei in quel bar e l'accompagno vicino al bancone magari dove c'è il macchinista gli dico guarda devi assaggiare questo tipo di caffè perché questo tipo di caffè ti dà queste sensazioni gli faccio vivere un'esperienza quella persona il caffè se lo prende anche se magari come me sinceramente il caffè non gli piace ve lo posso assicurare è come presentate la cosa è come le accompagnate in questa esperienza il vostro essere presenti sul profilo è comunque collegato al vostro essere presente in quel gruppo una persona che avete con la quale avete parlato magari viene dalla pubblicità non la conoscete cerchiamo di creare un'empatia la invitiamo in questo gruppo giusto li dobbiamo dare tanta ma tanta importanza alle storie che sono là dentro io gli parlerò anche di quelle storie oltre a taggarla sotto quel post gli parlerò di quella persona noi dobbiamo lavorare gomito a gomito tutte quante in quel gruppo lavoriamo ognuno per l'altra persona quando impareremo a fare questo quel gruppo funzionerà alla grande tante di voi poi mi chiedono io inserisco le persone là dentro in quel gruppo e adesso ci sono stati anche dei problemi con l'inserimento quindi qualcuno ha dovuto entrare col link come si fa poi a sapere se la mia la mia cliente come si fa se va a contattare un'altra persona allora innanzitutto ragazze voi siete entrate qui per una questione di fiducia vi siete affidati a una persona che non conoscevate o che comunque non conoscevate di persona come me con Sara e io in dieci giorni ho iniziato magari qualcuna di voi ci ha messo pure un anno però è sempre una persona che voi non conoscevate gli avete dato fiducia dovete continuare su questa linea là dentro ci sono gli amministratori gli amministratori guardano quando c'è un commento di persone che non sappiamo da dove vengono tramite l'amicizia e andiamo a chiedere chi li ha invitati ecco perché vi ho detto non prendete persone e le spingete là dentro come se fossero merce le persone le dovete accompagnare piano piano e avere fiducia che là dentro se io ci lavoro con etica con sapevolezza e con rispetto e ognuna di voi lo fa ognuna di noi dà un valore all'altra persona che inserisce un'altra persona la fiducia al primo posto assolutamente l'amore io non ho mai pensato nemmeno lontanamente che una persona potesse parlare con Sara per esempio e non potesse ritornare da me tutte le ragazze e ce ne stanno tante qui che sono entrate anche in attività sono sempre passate per Sara per me è la fiducia che gli ho dato cinque anni fa e continuo a darla tutti i giorni e voi è questo che dovete capire noi siamo una squadra bellissima ma negli ultimi tempi sinceramente vedo che ognuno va per conto suo una cosa molto importante è come fate i post in quei gruppi in quei gruppi noi ci noi raccontiamo la nostra esperienza non andiamo a pesca di clienti là dentro o di incaricati nel gruppo trasformazioni si racconta quello che Gisplast ha dato noi io sono Rita quando sono entrata avevo 49 anni sono 5 anni che racconto sempre la stessa cosa io sono Rita ho 49 anni 50 sono cresciuta là dentro adesso vado all'asilo perché sono 5 anni sono Rita ho 55 anni quest'anno ne faccio 55 e cercavo qualcosa che mi potesse aiutare a rimettermi in forma io racconto sempre questa storia con parole diverse o con un'emozione diversa in quel momento ho trovato il mio benessere perché è vero che ho perso 36 kg ma io ci ho trovato ci ho provato il mio benessere e lì lì racconto quello che le premium mi danno per me il mio cavallo di battaglia sono le premium toglimi le premium io sono morta è quello che noi dobbiamo far passare alle persone l'esperienza bella che Gisplast ci ha dato ognuno di noi quindi da dove sono partita chi sono da dove sono partita che cosa ho avuto qual era il mio obiettivo se ci sono arrivata oppure no non si finisce mai con la frase chiedimi come o con la frase ti aspetto perché ho eliminato tanti post che avevano proprio questo finale questi sono post che vanno sul profilo ragazzi non vanno là dentro io là dentro devo dare il mio contributo per aiutare e per ispirare le persone che ho inserito io ma per aiutare tutte le persone che sono state inserite stessa cosa vale per il gruppo attività e il gruppo attività chi ero chi sono io adesso ma da dove sono partita chi ero io ero una persona che avevo un bar la mia gabbia dorata se chiedete la conoscono tutti quanti perché quante volte l'ho nominata dove sono adesso perché ho continuato perché continuo che cosa mi dà questa attività è questo che dovete raccontare non c'è bisogno di essere PMD per raccontare noi raccontiamo un'esperienza noi raccontiamo tutto quello che questa attività ci dà ogni giorno la nostra crescita ognuno di voi ha avuto una crescita ognuno di voi un mese due mesi tre mesi rispetto a tre mesi fa quante di voi si vedono diverse Jenny per esempio che è una delle mie quindi conosco conosco bene lei è una delle ultime entrate ma rispetto a due mesi fa quanto sei cambiata tantissimo Antonella e poi ragazze la cosa importante è che dovete imparare a conoscere la storia di tutte scusate ma c'ho sto spricci che mi dà fastidio la storia di tutte di tutte le persone che postano in questi gruppi quindi è importante che imparate le storie è importante che seguite le persone è importante che siete presenti la vostra presenza nei gruppi vi porterà poi alle persone a seguirvi anche sul profilo quindi le due cose camminano insieme non serve a nulla se fate dieci post sul profilo ve li fate per voi ragazzi non serve a nulla deve essere un tutto che cammina insieme per cui presenza nei gruppi presenza sul profilo presenza nelle storie e tutto questo vi porterà in qualche modo a riallacciare tutte quelle quei rapporti con le persone che comunque continueranno a seguirvi perché se voi inserite una persona in un gruppo e poi voi non ci siete mai ma sta persona se per caso ha qualche domanda da fare o comunque si sta ispirando a quel gruppo a chi si andrà a ispirare a chi c'è a chi c'è per cui impariamo un po' a fare un bellissimo lavoro di presenza i vostri passi la mattina dovrebbero essere prendete il telefonino guardatevi le chat ma non per dire il buongiorno guardatevi le chat perché ci può essere qualche informazione qualcosa che vi siete persi magari la sera prima o vi siete persi il giorno prima quindi andatevi a guardare le chat e a salire su nelle chat la prima cosa il secondo passo dovrebbe essere scaricarvi i vostri tabulati e questo penso che faremo un altro zoom su questa cosa perché è una cosa che non fa nessuno scaricatevi i tabulati il terzo passo è entrare nei gruppi andatevi a guardare gli ultimi dieci post guardatevi i commenti se non avete commentato commentate guardatevi i commenti perché così aiutate anche le amministratrici e le vostre colleghe a guardare se c'è qualche commento magari di persone che stanno chiedendo o qualche commento negativo il gruppo ragazzi ve lo dovete coccolare il gruppo va riguardato io invece non vedo nessuna presenza mi dispiace dirvelo però negli ultimi tempi ho visto che proprio vi state addormentando sugli allori e questa cosa non va bene un post a settimana sì Lilli io io direi che un post a settimana per ognuno di noi sarebbe la cosa migliore per farvi conoscere per dare presenza e per fare in modo che quell'algoritmo di quel gruppo sia sempre in moto quindi secondo me se ognuno di noi ci impegnassimo a fare un post a settimana ma forse anche nel gruppo attività al di là di quel bonifico mensile che poi alla fine potrebbe diventare anche un fastidio sinceramente potremmo anche fare qualche post in più perché ho deciso di rimanere perché sto in questa attività perché mi piace perché dico che assolutamente sei Lilli non necessariamente di trasformazione ma di di benessere tante volte io ho fatto anche qualche diretta parlando dei benefici che ho avuto per la per la menopausa tante di voi possono parlare della loro esperienza con i benefici che hanno avuto beneficio sulla pelle sulla pelle assolutamente sui capelli volete parlare del vostro caso magari per quanto riguarda non entriamo nel fatto della malattia però se persone che non prendono più la pillola della pressione questa è la mia esperienza personale ovviamente seguita dal dottore sul consiglio del dottore stitichezza tutto tutto quello che può che ci ha portato il beneficio cioè non è che bisogna per forza di so dimagrita so non so dimagrita mettere la foto eccetera eccetera persone che hanno seguito il programma che sono diabetiche il meglio di loro può dare la loro può dare che sia ovviamente la mia esperienza personale come diceva Sara e non noi non siamo medici e non possiamo prenderci assolutamente di queste responsabilità diciamo poi che è anche un po' ciclico d'estate ovvio che se fai vedere il primo e dopo tira di più quando è il momento che arriva l'estate se fai vedere il primo e dopo tira di più esatto però il resto dell'anno cioè i benefici i benefici raccontati l'energia l'energia che piace tanto a tutte no? il discorso di non essere stanchi il discorso di concentrazione ma anche l'esperienza dei vostri bambini raccontatela porca miseria anche i bambini è importante bambini che mangiano juice plus bambini che mangiano le caramelline bambini bambini ragazze ragazzi cioè 18-20 anni il mio figlio prende questo l'acne cioè tante tante cose che ovviamente siano reali che avete avuto voi di cui volete parlare tutto dobbiamo far dobbiamo presentare juice plus in todo assolutamente non dimentichiamo che juice plus non è principalmente dimagrimento ma è un bellissimo programma benessere stiamo sganciando assolutamente da questo e gruppo attività raga gruppo attività cioè se stai qui solo per vende non è non è quello gruppo attività è mi permette di quindi vado a commentare vado a taggare vado a raccontarmi anche se sto mese ho chiamato 20 euro anche se sto mese non ho preso niente posso fare la somma di tutti i mesi che ho preso posso fare è ovvio che io vi chiedo il bonifico perché se iniziamo a raccontare solo le esperienze l'addendo quando uno entra non tutti leggono la maggior parte guarda le cifre però vede le cifre di tutti i tipi insomma dal più grande al più piccolo e si parla di esperienza perché le domande sono sempre quelle perché ho iniziato come l'ho incontrato perché sto continuando perché ci credo che cosa vedono il mio futuro le persone hanno bisogno di sognare di conoscerci chi sei quanti figli hai quanti anni hai che hai fatto nella tua vita lo so che è noioso ma raga i migliori networker dicono sempre quello assolutamente perché tu li conosci per quello se no una cosa se tu non la ripeti continuamente non ti rimane in mente quindi non vi preoccupate sarò noiosa non sei noiosa perché facebook dimentica le persone dimenticano quindi non ti dico che tutti i mesi devi fare lo stesso post per carità per carità di Dio però un principio ce lo devi avere sempre poi la storia cambia ogni anno ogni mese cambia c'è qualcosa di diverso ma il principio sei tu tu non ti devi mai dimenticare da dove sei partita quando sono entrata io facevo i post ogni settimana se non ogni due tre giorni nel gruppo perché potevo mettere una maglietta più attillata perché vedevo le mie gambe che si stavano assottigliando perché mangiamo più frutta e verdura cioè qualsiasi cosa era ben accetta era molto attivo quel gruppo un gruppo dove non si posta non è attivo e non va più nemmeno nelle notifiche assolutamente è importante è importante è importante è importante raccontarvi è importante farvi vedere iniziate dal gruppo e poi portate tutto sul profilo le nostre storie le nostre le potete portare sui profili i nostri prima e dopo tutto potete portare sui profili non lo stipendio il bonifico non si fa vedere sul profilo perché non cioè non è che dice entro e quindi guadagno quelle cose anche perché chi è che posterebbe un bonifico su un profilo Facebook ma io manco morta ma non ti dico di Giuse Plus ma io vado a lavorare avete mai visto qualcuno che fai della busta paga su Facebook mi sa tanto di attirare non è bello sì ho guadagnato posso dire questo mese grazie a Giuse Plus ho pagato la rata del mutuo sti cazzi voglio dire se capisce che comunque c'è avuto un'entrata di 300-700 euro mi ha permesso di così le attrai le persone che sono curiose e poi ti chiedono è così cerco un'entrata extra cerco un cambiamento tutte queste cose sul profilo non dovete mai dimenticare l'attività Sonia per gli uomini è la stessissima cosa abbiamo il gruppo trasformazioni uomini e va uguale certo il gruppo uomini è morto sepolto messo lì accantonato e invece stanno un sacco di uomini che vogliono stare bene assolutamente assolutamente dobbiamo riprendere un po' come il discorso lì andrebbe potenziato un po' anche con l'attività fisica con cioè facendo dirette loro che fanno attività fisica è ovvio che se ce lo famo noi arrivano tutti morti di fame per non dire di altro ecco ho detto fame va bene però se lo fa un uomo diventa più professionale ok e cerchiamo di riprendere le reti di quel gruppo e poi portarli anche tutti in attività e quindi anche la loro storia nel gruppo attività va messa noi quando mettiamo un uomo non sappiamo dove taggarlo se non nei posti vecchi del fratello mio eccetera eccetera non va bene devono essere presenti la vostra storia qualsiasi storia sia deve essere presente perché se no dicono ma qui è tutte donne non lo faccio qui è solo donne non lo faccio giustamente noi abbiamo questo target eh al novanta novantotto virgola nove per cento e quindi cerchiamo di dare questa strada in modo che se entrano gli uomini siamo già organizzate con chat uomini con gruppo uomini con l'attività e post degli uomini il mercato è grande è proprio grande è un mercato che non finirà mai bambini ragazzi tutti assolutamente noi attiriamo e non pensate che sia eh solo un discorso di ho questi grandi risultati allora le persone mi seguono perché ho questi grandi risultati toglietevelo dalla testa è come le fate sentire le persone io ho l'esperienza di quella diretta che ho fatto di quando abbiamo fatto la il mese dei sogni eh ci ho cinque mila visualizzazioni su quella diretta non è che ho festeggiato il mio PMD ho sognato il mio PMD le persone vogliono questo le persone vogliono essere accompagnate nei loro sogni anche nel gruppo attività è questo che dovete trasmettere non conta se io questo mese ho preso cento euro ne ho preso duemila ovvio che quel duemila fa un po' più rumore ma con le parole io posso fare ancora più rumore con l'emozione che posso far che posso trasmettere su un posto è questo che dovete imparare ragazzi voi siete qui per un vostro sogno siete entrati per un sogno però i sogni se li mettete lì ritornano nel cassetto assolutamente sì poi il discorso quindi i gruppi hanno veramente una grande importanza il discorso della chat che gli dico che non gli dico ripeto le chat sono molto semplici molto semplici non dobbiamo staffare lo spiegone non dobbiamo convincere nessuno dobbiamo far conoscere professionalmente quello che succede e dobbiamo ascoltare ascoltare l'altra persona perché se una persona mi scrive vuole chiacchierare vuole parlare vuole essere ascoltata tanto il problema gira sempre lì dobbiamo diventare bravi ad ascoltare leggere tra le righe usare il loro linguaggio se usano le faccine usate le faccine se è un impatto dove devo rompere il ghiaccio fate una battuta mandate durisate fate le ride mettetevi a vostro agio non dovete staffare dottoressa Joe ok il lei non lo usate ve l'ho detto tante volte io mai uso il lei non mi piace anche se parlo con una persona di 70 anni io in lei non l'ho mai usato perché per me siamo tutti uguali domanda parlami un po' di te che ti devo chiedere quanto pesi quanto sei alta ma che me frega parlami di te ed è lì che si aprono parlami un po' della tua giornata che cosa mangi che orari hai come mai sei arrivata a questo peso quante cavolo di dieta hai fatto per arrivare a vuoi fare un'altra dieta quando ti dirà ma lo voglio provare per un mese vuoi fare un'altra dieta che non funziona vuoi avere gli stessi risultati che hai avuto finora fatele parlare bene spiegami adesso ti faccio vedere il gruppo faccio vedere il gruppo della trasformazione risultato che potrai avere anche tu un gruppo dove mi sono innamorata anch'io e lo mettete nel gruppo poi ok ho visto ti piace sì eh ti lascio il video che sia il keystart 10 che sia il video dei prodotti io uso sempre e solo il keystart 10 io il video dei prodotti non lo giro mai raga quello dove spiego tutti i prodotti a meno che non voglia una cosa più dettagliata o sia un uomo no però io uso sempre solo il keystart 10 perché da lì viene fuori l'energia da lì viene fuori la possibilità il fatto di usare tutti i prodotti premium e shake di base e ovviamente c'è l'esperienza di mia di una persona che lo fa da 6-7 anni e rispondo a tante domande in quel video poi spiegate bene o male che non è 10 giorni non è miracolo è un nuovo programma che in 10 giorni riusciamo a dare una spezzata al metabolismo riusciamo a far avere no un risultato ovvio un impegno considera che andiamo a sostituire ogni 5 in 10 giorni 5 giorni 2 passi pranzo e cena è qualcosa proprio per disintossicarti per darti un via e poi continueremo continueremo decidendolo insieme come useremo i prodotti il mio lavoro è quello di dirti come si trovano i prodotti di darti le ricette di farti supporto ma soprattutto di farti arrivare al tuo obiettivo perché il mio lavoro è quello perché tu sarai la mia più grande pubblicità io non sto qui a vendere sto qui ad aiutare le persone queste sono le modalità questo è quello che mi serve poi è se hai domande se hai dubbi dimmi tutto quello che vuoi ci possiamo sentire anche telefonicamente per carità e quindi la vi racconterà vita, morte e miracoli poi ripeto se siamo alle prime armi mi piacerebbe farti conoscere Sara mi piacerebbe farti conoscere Rita le persone che comunque vi seguono se volete non è un problema così hanno conosciuto Giuse Plus hanno conosciuto te e hanno conosciuto un'altra persona e da lì non è che scappi tanto bene ovviamente torneranno da te o da me non è quello ma se tornano da me lo so da dove sono venute ma se io le metto nel gruppo non ne spiego niente e lascio un video che manco lo guardano è il lavoro sprecato sprecato l'attività che accettino l'invito tra parentesi in questa chat poi io parlo subito di attività subito perché non parlarne che devo aspettare che devi rimagrire che devi rimagrire se io ho iniziato manco i prodotti conoscevo e guarda dove sono arrivata perché quella persona non si potrebbe innamorare non potrebbe sfruttare l'ambizione non potrebbe sognare iniziare a tornare a sognare io te lo devo dire il mio lavoro è questo raga pacchetto completo poi una volta che una volta ti posso far conoscere tanto ti dicono tutti che costa troppo nel periodo è crisi c'è grossa crisi allora guarda ti parlo anche di questo perché proprio a causa della crisi e del voler di più io ho iniziato a lavorare con Juice Plus gruppo c'è il video sul network marketing così tu sarai cliente di te stessa con poco più riuscirai ad arrivare alla prima qualifica sarai supportata non sei obbligata a fare nulla ma puoi diventare una cliente privilegiata cioè guadagni su quello che te mangi che ti può una tessera punti questo è come lo spiego io poi ovvio io cerco di entrare tanto in empatia cerco di ascoltare di farle parlare di raccontarmi di ridere insieme con molta serenità questo è allenamento non è talento ok quindi più lo fai più imparerai ad essere brava queste sono le chat perché anche il fatto quando mi chiede ah deve dimagrire i fianchi raga ma non è che ci abbiamo un bisturi che ballà dimagrire i fianchi non è che ci abbiamo un bisturi che ballà dimagrire la panza juice plus juice plus premium e complete sia che devi perdere 2 chili sia che devi perdere 10 chili 20 premium e complete è quello perché è l'esperienza il discorso di mangiare bene il discorso di beneficio che poi ho tutti i risultati che manterrò e lì te levi l'annoglia che gli do da questa che gli do le bacche il busto no premium e complete anche perché lo stesso tempo che investi in quella persona ti porta il guadagno ti porta 500 punti è lo stesso tempo che devi mettere una persona che gli dai solo il booster booster prendi 98 punti e prendi 9 euro per vendere un booster ma anche no a me se mi chiedono il booster vai a casa perché il booster che esperienza è del juice plus raga amica stanno bene nei riprodottini qua voi dovete fare l'esperienza e se siete convinte voi le persone vi seguono premium e complete non è un discorso di prezzo se proprio proprio ti dice guarda è troppo per me adesso è complete bacche complete omega poi dopo nei gruppi cerchiamo ovviamente di fargli provare tutto ma per me se parte premium è complete poi dopo tutti mi chiedono lift perché quando gli mando il vocale nella spiegazione dei prodotti ci metto sempre lì ah ma io la lift non ce l'ho vabbè lo compri tra un po' raga così booster per me non esiste per me il booster non esiste quindi voi lo vendete va benissimo ma io non ho una cliente se me lo chiede perché lo conosce glielo vendo ma se io parlo con una persona nuova premium omega è complete io te vendo questo poi l'uplift me lo prendi dopo le barrette le zuppe me le prendi dopo per me il booster non esiste però se tu vuoi venire con me ti devi fare un'esperienza juice plus se tu vuoi venire con me devi innamorarti di juice plus perché sennò sarà sempre la classica dieta che poi ti dicono eh sì ho fatto ho smesso ho messo peso anche no anche no assolutamente questo è l'atteggiamento da tenere sicurezza che demagnate voi dei prodotti juice plus penso tutto che cosa ricomprate dei prodotti juice plus tutto volete che quella persona faccia la vostra esperienza diventi come voi continuate a venire il booster è così poi le perdi ne perdi per carità le perdi perché ci sono persone che non seguono per carità però è una questione di numeri e di atteggiamento serio e di esperienza ovviamente non sono nata così non ho iniziato così quando ho iniziato io si vendeva solo complete booster e io vendevo solo complete booster mai venduta una capsula in vita mia per un anno quasi perché avevo paura del prezzo perché non avevo capito niente delle premium ora che lo capisco e che lo capite anche voi le premium sono veramente il prodotto di punta della juice plus non ce l'ha nessuno non ce l'ha nessuno le premium e quando pensi che devo prendere le premium per dimagrire non è capito niente che cosa servono ma se non farò dimagrire non le voglio una gran fatica però un bellissimo lavoro questo è quanto questo c'è è una cazzata raga proprio cazzata se ci pensate pensate agli altri lavori e pensate a quello che facciamo noi tutto pronto tutto che ce lo lo siamo già trovato anzi ve lo siete trovato perché io ho rifatto i gruppi quando sono entrata poi ho fatto il gruppo mio dopo già sei mesi siamo andati abbiamo lavorato da sole abbiamo fatto sempre tutto da sole i video visto quindi ci avete tutto pronto ci avete la valigetta proprio top basta usarla e migliorare dovete capire che un giorno farete i video anche voi per spiegare dovete capire che un giorno avrete un vostro gruppo da gestire o no se non vedete sta cosa non ce l'avrete mai non ce l'avrete mai dovete capire che farete zoom davanti a 100 200 persone salirete su un palco davanti a 3.000 4.000 8.000 10.000 persone se non lo vedete non ce l'avrete mai questo è importante metterci in gioco sognare fare 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 questo è l'unico segreto che ti posso dire azione nonostante tutto nonostante tutti questo è volere e fare non è potere non c'entra niente il potere volere e fare ah ma io voglio ma eh mi sa che non vuoi perché ognuno di voi se vuole qualcosa se la prende qualsiasi tipo di carattere o atteggiamento abbiate questo è quanto chat per conoscere io sto qui per conoscere io sto qui per vendere questo lo dovete mettere in testa sono qui per conoscere e non per vendere sono qui per farmi conoscere e farti conoscere Giuse Plus e non per vendere tu mi dirai di no mi fa piacere che ho conosciuto te che mi hai detto di no ma so che tornerai seguimi innamorati ti faccio il corteggiamento così senza essere pallosa allora è deciso ma che devo dire se è deciso ti scrivo io tu non ti preoccupare non è che mi scrivi tu che ti dico sì o no anzi se mi scrivi tre borde te blocco te rispondo non mi risponde più nessuno non so faccio sempre il classico coso se viene quello del folletto una volta le faccio entrare due borde già storcio tre borde apro i cani vai andate perché se decido lo decido io e poi ti arriano quei messaggi ciao Sara e tanto ti ricordi di me sì mi ricordo assolutamente questo è quanto questa è la mia storia e questa deve essere la vostra storia ho sempre creduto sempre costruito sempre lavorato per migliorare sono tre o quattro anni che faccio dirette di continuo prima non l'ho mai fatte se vedo le mie prime le dirette di quattro anni fa oddio dico quella chi è però è così se non ero passata lì non ero così è ovvio che prima parlavo tanto di prodotto oggi non parlo quasi più di prodotto se fate caso il prodotto glielo parlo in chat è ovvio io so Giuse Plus mica le parlo di altro ma le persone hanno sempre da criticare sempre da far noia poi se parli di Giuse Plus in privato le puoi gestire le puoi raccontare assolutamente questo è quanto il discorso è mi voglio far conoscere e ti voglio fare il mio lavoro è farti conoscere Giuse Plus questo è quanto questo è il vostro lavoro non è vendere perché vendere vende l'azienda che faccio nella vita supporto le persone ti dirò come mi vuoi nella tua vita ti dirò come prendere i prodotti ti farò raggiungere il tuo obiettivo questo preclude che non sei sola questo preclude che sarai accompagnata questo preclude che è un grande impegno verso di te questo preclude una grande conoscenza e stima quindi visto che ci stimeremo ci ameremo staremo a stretto contatto devi entrare in attività sempre questa non ve la dimenticate mai se no state sempre a punto di partenza faccio gli clienti nessuno vuole entrare in attività tutti mi dicono che no ma se tu diventi un martello problematico come quando sei entrata non sapevi vende e adesso c'è le clienti poi sarai bravissima a farle entrare in attività poi che partono meno quello non siamo noi brave o male ognuno ha i suoi sogni ognuno ha i suoi modi noi non siamo capo di nessuno ma possiamo essere ispirazione è ovvio che più più fai più le persone ti seguono questo è molto importante l'entusiasmo è il motore della vita è il motore di questa attività quando non c'è più entusiasmo puoi guadagnare anche 10-20 mila euro raga non stai più nel punto non stai più nel posto giusto perché ripeto questo è un lavoro che se sceglie è un lavoro molto impegnativo molto impegnativo è un lavoro di crescita è un lavoro di continuo essere al di sopra della media della massa non è facile è uguale al discorso di attività fisica quando vedete le bellissime trasformazioni a un map davanti brava quella è costante non sgarra testa disciplina prima lo mettete in testa e prima vincete se come va va non vada dove volete voi questo è poco ma sicuro il culo nel network marketing non esiste perché se ti entra una ragazza molto in gamba e te come babba quella ragazza la rovini tutta perché tu sei l'esempio ecco perché vi dico sempre fategli vivere il team perché se anche avete dei momenti no c'è il team c'è la visione se voi le isolate vedete per voi per terra il team è la più grande forza del mondo il team è la più grande felicità è la squadra che tira no giocare da soli giocare da soli nella vita lo fai tutti i giorni perché state qui perché non vi sentite soli questo è molto importante il network funziona perché ti fa far parte di un gruppo come a scuola vuoi far parte della gombriccola come al lavoro vorresti essere no parte no e qui succede questo quando avete capito questo sapete come lavorare e dove lavorare non esiste non esiste raga e è la realtà più grande però purtroppo che voi non create non fate team non fate team perché non non ci credete non fate team perché non non fate ste cazzarola di chat e non diventate brave non diventate brave i no sono l'ordine del giorno tutti i no sono l'ordine del giorno secondo voi ci sta differenza tra una chat uomo donna e donna donna io a volte ho l'impressione come se noi uomini non si volesse aprire nel senso di parlare è ovvio l'uomo ha un mondo un po' diverso no non è chiacchierone come noi l'uomo è più pratico Agostino può e fa basta gruppo gli spieghi un po' la tua prima e dopo che i servizi che ti do e il pacchetto tante chiacchiere io i clienti uomini che ho Sara guarda sono interessato questo questo proprio messo in croce è diverso il mondo uomo e donna è diverso assolutamente però dobbiamo essere direttivi dovete imparare ad essere direttivi a guidare le persone loro non lo sanno loro non lo conoscono loro non sanno nulla ma se dimostri sicurezza è fatta anche perché se io devo mettere in mano dei soldi la mia opportunità il mio risultato vado da una persona sicura e sicura non significa eh con tanta esperienza è sicura significa c'ha entusiasmo che sa quello che vuole penso che ognuno di voi può sapere quello che vuole può decidere può caricarsi troviamo sempre la scusa lei è così io no fa culo eh porca miseria visione credo è così che funzionano le cose se ho fatto successo è per questo perché non mi sono dato alternative in più ogni cosa mi sputtano in modo che lo rendo palese e che c'ho la la spinta assoluta questo è quanto poca roba semplice nell'idea poi ovvio nel discorso di interagire con le persone non è mai semplice ci saranno tanti casi umani tante persone tante esperienze però è tutto quello che vi serve è tutto quello che vi serve tutti i colori delle persone altrimenti dopo diventa noioso le critiche piatevele su sorridete non rispondete mai male non cercate mai la guerra assolutamente noi siamo un porto di accoglienza perché abbiamo scelto di creare qualcosa di bello e se te i nemichi cioè ti rendi nemiche le persone ci hai capito proprio niente perché le persone sono il tuo successo quindi è importante devo cambiare carattere sì cambialo perché non è che ti serve per fare i soldi ti serve per la vita io penso che abbiamo detto un po' tutto sono 10 e 10 siamo anche allungati parecchio spero ti abbia risposto Agostino non so se ci sono altre domande ma adesso non mi va nemmeno più ah sì quello Agostino gli abbiamo risposto non si può fare meno i premi sì grazie a posto non so Rita se vuoi aggiungere qualcosa allora Alessandra chiedeva posso scrivere nel sul post attività tipo quel con questo bonifico mi sono fatto un regalo assolutamente sì sì e fai vedere che cosa hai comprato come dicevamo l'altra volta avete comprati le scarpe avete comprati i vestiti dei figli avete pagato la rata del muto avete comprati la macchina tutto tutto quello che avete realizzato non solo i soldi ok quando faccio il post della piscina quando faccio il post cioè così è va benissimo perché la gente vede comunque le cose materiali non solo il denaro perché tanto col denaro che ci fai il denaro è fatto per essere speso e compri quindi questo va va più che bene però ecco non dimenticate mai dove volete arrivare non dimenticate mai quello da dove siete partiti e dove volete arrivare in mezzo è tutto il bellissimo viaggio che vi serve assolutamente grazie Rita grazie ragazze spero che vi sia utile tanto l'ho registrata poi passerò la registrazione vi auguro una buona serata vi auguro di chiudere un buon mese di gennaio assolutamente e poi in 2021 è assolutamente nostro tutto da costruire domani ci vedremo con le leader e vediamo che ne esce fuori grazie tutto per voi grazie ragazze buonanotte grazie a tutti grazie a tutti